Partirà l'8 gennaio a Fano e a Mondolfo lo screening Marche Sicure. A fare il punto per quello che riguarda il comune di Mondolfo è il sindaco Nicola Barbieri che ha illustrato il tutto ai cittadini. Lo screening di massa verrà effettuato sulla popolazione tutti i giorni da venerdì 8 a mercoledì 13 gennaio. Gli orari sono la mattina dalle ore 8 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 da venerdì 8 a martedì 12. Mentre mercoledì 13 gennaio molto probabilmente sarà solo la mattina. Il luogo sarà il bocciodromo comunale, in particolare la sala Ciriachi che verrà appunto allestita dall'Aso per l'effettuazione dei tamponi. L'indirizzo è viale Europa 9 Marotta. Vi do l'indirizzo perché parteciperanno non soltanto i cittadini del comune di Mondolfo ma anche i cittadini del comune di San Costanzo. Per effettuare il tampone rapido intanto non serve la prenotazione ma occorre presentarsi nelle date e negli orari previsti con il modulo richiesta test antigenico rapido Covid-19 che dovrà essere compilato. Il modulo è scaricabile sui siti di entrambi i comuni sia di quello del comune di Mondolfo che di quello del comune di San Costanzo ma il modulo sarà presente anche sul posto. Quindi chi andrà sul posto troverà anche il modulo che verrà fornito dai volontari della protezione civile della Croce Rossa e si potrà quindi compilare all'ingresso. Il risultato sarà fornito in circa 15-30 minuti. Non potranno partecipare quindi le persone che hanno sintomi da Covid-19, non potranno partecipare le persone attualmente in malattia per qualsiasi motivo, le persone risultate già positive al Covid-19 negli ultimi tre mesi. Non potranno partecipare le persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario, le persone che hanno già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare. Le persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali, i minori sotto i sei anni quindi non potranno partecipare, non potranno partecipare neanche le persone ricoverate nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, comprese le case di riposo pubbliche e private. Come sindaco l'invito che faccio a tutta la cittadinanza è quello di partecipare. La partecipazione è molto importante proprio per salvaguardare la salute di tutti noi e avere dei dati precisi su tutta la nostra popolazione. Grazie. 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 Grazie.